Oggi il mio compito è quello di andare a completare la 100% precisione challenge È la sfida più difficile che vi abbia mai fatto e infatti ho proprio chiamato ferro Prima di iniziare iscrivetevi al canale e andiamo subito al video Ci siamo Powa finalmente, vedi non morire come al solito però eh Ma non morirò mai come al solito perché oggi Powa è molto più forte del normale Soprattutto oggi Powa in questa nuova challenge andai a utilizzare il codice Powa Mi sa che ci sono già persone da me e se vado a missare un solo colpo ferro sono fregato Ma guarda ti dico che ci sono persone pure da me, in tutto questo il bot mi ha missato tutti i colpi Cioè lui dovrebbe ricominciare la partita a go go in teoria Ok l'importante è che non mi muori Signor ferro sto andandomi a pushare perché davanti a me ci sono delle persone Se vuole venire magari Allora ma tu hai presente che il 100% di precisione è letteralmente impossibile Perché ti conta pure l'headshot e i 5 puntini nel colpo? Che dici mi conta pure l'headshot boom Preso uno aspetta No aspetta fermo 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 perché questo qua l'ho distrutto Posso non aver missato nessun colpo prima Ok io l'ho craccato ho lasciato one pure il suo michetto L'unica cosa avrei bisogno di una mano Attenzione boom preso ancora preso ancora Preso ancora ucciso uno ucciso uno V morto un altro Let's go baby Ok zero per adesso colpi missati E quindi signori in questo momento ho letteralmente il 100% di precisione C'è un tipo davanti a me che sta correndo Sì ma stai attento zio e in tutto questo ricordati che purtroppo devi fare headshot per avere 100% di precisione Come headshot ma che headshot io mi sono già fatto un'altra killer al frattempo Let's go baby Perché stai facendo il mattacchione ferro con le C4 Guarda scusami ma veramente ultimamente non so perché mi piace fare esplodere le cose Cioè veramente è troppo divertente Eccolo po po gente ma aiuto 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 Lo visti lo visti 23 ok non ho missato signori La cosa brutta è che io non so se tenere effettivamente la mitraglietta Perché non è che mi da tutta questa sicurezza raga E' roba è a colpo singolo soprattutto i fucili a pompa ecco Oh 35 headshot a 1 Basta però ti prendo con la mitraglietta missi per forza tra poco Boom 20 mamma mia distrutto Allora che faccio? Non lo so per evitare un altro ragazzi No ho missato un colpo Non ci credo ancora oggi la mia mire è decisamente troppo forte Andiamo ferro? Andiamo a pushare? Stai qua sotto di me eh ok Vai 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 boom 50 Ucciso 1 Bravo ferro Ok distrutto Molto bene e distrutto No ho missato con la mitraglietta ferro No li voglio aiuto Ucciso Mamma mia meno male Ferro si ma tu lo sai cos'è appena successo? Appena mi è stato con la mitraglietta Eh vabbè ma almeno Cioè scusate lasciate like se pensate che almeno qua si può chiudere un occhio Cioè poi hai preso tutti i colpi pur in ergio Se hai messo un colpo non è che possiamo quittare il video eh Comunque zio hai ancora due vite non quittiamo Dai vedi di rimanere in questa partita ma sappilo Quitti ancora due volte cioè sbaglia ancora due colpi E siamo fregati abbiamo quitta la partita e sarà automaticamente persa la sfida Ok ok posso dire una cosa ragazzi in questo momento ferro mi ha salvato il sedere Ma sa di fatto ti devo stare attento Powa veramente beviti Fatti la nutella se possibile in qualche modo perché non devi veramente missare un colpo Fatti di nutella Powa questa è abbastanza brutta di cose eh Oh no nel senso cioè bevi mangia capito Fatti la nutella Eh ci stanno pusciando per sentire qualcuno che Eccoli eccoli Ecco qua spacca pure fratello Ok allora le persone sono esattamente sopra Vado col camion Ma cosa stai facendo Ok l'ho visto è andato via Ah ma è scappato Ma era un nabbino mi sa Mi sa che era uno che utilizzava il codice Povoli del negozio oggetti Mi raccomando signori inseritelo sempre Adesso che siamo tornati sempre più forti su Fortnite E la cosa bella è che Ferro tu non hai questa challenge da fare per forza E io sì E se la sbaglio dobbiamo quittare E io la odio infatti Sì ma calma hai ancora due vite Vedi non sprecare dato che ti credi tanto forte forte Poi se per sbaglio dovessimo quittare la partita per colpa tua È un grande problema ti rendi conto Ah mi credi cioè secondo te io non sono forte eh Ma onestamente lo penso proprio Signor Powa Oh la la li ho visti guarda come stanno Io non ci provo minimamente a sparare da qua Perché la possibilità di missare è tipo 99% Confermo E invece io posso sparare quanti colpi voglio Perché tanto non muoio Comunque se sono due ti rilascio eh Te lo dico Ok ok molto bene Sto arrivando sto arrivando Ferro sono esattamente qua Stai lì dietro Stai lì fermo Non puoi missare Let's go Ucciso Let's go Un solo colpo ragazzi ma è servito Allora Oh porca paletta Diciamo che ho servito bello forte Stai attento Distrutto Distrutto Let's go No aspetta 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 Io non vorrei aver missato un colpo Perché mi sa che effettivamente ragazzi L'ho missato nel mentre che stavo giocando Vabbè replay No no Ferro Ho missato letteralmente Un solo di colpo Però la cosa bella ragazzi È che La cosa bella è che sei un bot a pedali Sei come fai a missare col pompa Eh no no Ho missato col pompa Ho missato con la mitragietta Infatti sapete che cosa ragazzi Io la butto Sto schifo Lo butto subito Ma la cosa bella ragazzi È che se sparate tantissimi colpi Alla fine della partita Vi potrà dare anche 100% Anche se effettivamente Miss una cosa come Due o tre colpi massimo Però ecco Lo dovresti fare su tipo 150 colpi Eccoli là Guardali lì Fermo fermo Quello lì Boom 21 preso Oh pure gente dietro C'è uno che vola Porco mondo Sì 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 Qua sopra Qua sopra Non gli sparo minimamente in volo L'avrei laserato Giuro che l'avrei laserato Eh adesso Esagerato Eh no non scherzo Io sono proprio Powa Il più forte al mondo Ecco qua Davanti a me Davanti a me Vai ferro Boom ok 50 questo Ok attento Verdo a sinistra Mannaggia C'è un pollo Che mi sta attaccando Ma sei serio Guarda io ti dico soltanto Con pochettino poca vita Vai pure tipo Ok aspetta aspetta C'è un tipo da qua Boom distrutto Bravo ferro vai Ucciso 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 Bravissimo Copro 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 Tranquillo Tu distruggi Ecco c'è voluto un sacco Per distruggere quello lì Ma va bene comunque Intanto c'è un altro tipo ragazzi E la cosa è che io non posso Manco distruggere le strutture È la cosa che mi fa ridere Basta Guarda come giochi brother Aiuto per favore un secondo Allora 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 facciamo una cosa Il tipo è da me Io non me la voglio rischiare Quindi sto sopra No 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 Ferro non è divertente Però gli altri possono spammare Io no Adesso spammo io un attimo a loro Così almeno capiscono Cosa non dovrebbero fare Proprio quello che stanno facendo Finora Ucciso Quasi distrutto Bravissimo Bravissimo Sto arrivando Eh sì magari Lo dovrei aver full boxato Qua tutto box tuo Diciamo che ci hai messo Un pochettino tanto Non lo so non credo L'hai ucciso in tutto questo Mi sta a dire Aia L'altro tipo da me L'altro tipo da me E io mi sa che sono bello Fregato Bene L'altro tipo da me Io non c'ho cura ragazzi È arrivato pure l'altro team Peggiù di così non si può Ok l'ho distrutto pure questo eh Però c'ho meno vita ancora io Boom distrutto distrutto 20 e 79 Sono appena morto dalla tempesta Ma cosa sto vedendo Signor ferro arriverò io Arriverò io a tirargli un super colpo Questo giuro che lo distruggo adesso Oh Mio dio E fu così che mi attaccò Quella granata di me Io immaginavo ferro che questa qua Potesse essere la sfida più difficile Che avessi mai fatto Il punto è che non così tanto Eh pensa te che io c'ho un DMR In questo momento Aspetta fermo Per pusharmi uno per sbaglio Boom ucciso uno Con 100% signori di precisione Molto bene anche perché c'ho il pompa Eh volevo vedere se morivo in questa maniera Stati pasto Ti dico solo che mi hanno tirato una torretta Distruttiva Non morire Non morire ferro Abbiamo solo bisogno di Una persona in questo caso Che oltre a pompa Deve essere anche Ho un tipo che mi è passato davanti E non mi ha visto Meno male lui Aspetta Aspetta Boom ucciso un altro Con 100% di precisione ancora Signori Dovrei avere un tipo qua a destra Uno spastrovato Fantastico Ok io posso Ti darmi questo Io sono messo malissimo Powa Non ti rendi conto Va bene fai una cosa Tieni di pure tutti Sti pompa qua Tanto a me ne basta solo uno Ho trovato l'arma perfetta Signori La R che letteralmente Mi servirà Ma anche un tipo qua a destra Se ci pensate Sopra più che altro È andato più sopra di te Powa Mi sa che è andato proprio Sopra 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 Dove? Sopra non batte il sole Sto sentendo C4 Tante C4 Aiuto Basta che non esplodi da un C4 Per me va più che bene Ok lo vedo qua davanti a me No non gli ho sparato Non gli ho Ma che cazzo è successo? Ma non lo so Non lo so Entra 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 Via via Oddio Da me da me ferro da me Da me Mercoledì ok ho uno di vita Lo ho messo tutti i colpi Ok ho ucciso 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 Bravissimo Meno male che la challenge Non la devi fare te Perché sennò dovremmo già quittare Beh oddio avrei comunque tre vite Anch'io eh Non è che ho messo tutti sti colpi Vero ma in tutto questo Mi sto facendo un kit Ho sentito un tipo Che è appena atterrato Attento ferro Guarda sta precisamente davanti a me eh Comunque le persone ragazzi Sono proprio affamate Io non le capisco Giocano per vincere questi qui Beh oddio Noi cos'è che facciamo Infatti Davanti a me 41 Ma solo 41 Ma no ma solo 41 Dire del pesce L'ho distrutto Mamma mia l'ho mangiatissimo Bravo Vorrei arrivarsi da dietro questo Mi faccio il pesce signori L'ho visto l'ho visto l'ho visto Ok Attento che c'è un altro team Niente guarda questi qua eh Guarda questi qua Oh ma Sono i bivoli Distrutto No non è vero Ho una di vita questo L'altro mi spamma Ho ucciso L'ho distrutto Let's go baby Mamma mia l'abbiamo mangiati Che cosa abbiamo fatto qua ragazzi Non lo so neanch'io Devo essere sincero Però l'importante è che Siamo a 3 kill Che siamo a 3 kill Che non siamo riusciti Cioè che siamo a 5 kill in totale E soprattutto che ci sono altre persone Ma oh Questo qua mi sembra uno start Che essere degno E dire poco Io ho paura Ti dico solo questo Sopra davanti a me Esatto Volare persone aiuto Sono esattamente qua sopra Allora io ti direi Attenzione Non saliamo magari con razza e rete Perché sennò Tempo un secondo E ci laserano Ma no 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 Lo so prima No no Ferro via Ferro via Ferro via Mi sto facendo Perché sta arrivando Spero Sto arrivando Ok in tutto ciò Stanno arrivando a te Sai cosa ti dico Dai Uso una granata e arrivo Questi qua sono indemoniati A uno di vita Mamma mia Oh ma è distrutto Marto Oh mio dio Che laserata Non abbiamo messo un colpo Ne io ne te Da me da me Chug belli Belli potenti Tranquillo che anche da me C'erano i bei chug Uh no potenti no Aspetta Da me c'erano le persone Ok Fammi fare questo signori Ci possiamo tirare Tutti gli chug del mondo Mi raccomando Iscrivetevi al canale Codici Powa Nel negozio oggetti Uh Sento che stai distruggendo Qualcuno sbaglio Uh eccolo là Ti sbagliavi di grosso Perché se ne stai scappando Però c'è da dire una cosa Che abbiamo letteralmente Disintegrato tutte le persone qui eh Lo vedo Powa Sta qua da me Sì 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 E lì te lo pingo C'è il palloncino Ma questo è matto Vai vai Sta andando via Sta andando via Ma mi sta sparando anche a me Ma sono seri? Lo sta andando a pushare Tranquillo fratello Qua c'è il Powa Mi sa che ti sta pure pushando uno Non lo so Io ragazzi continuo a sentire persone a caso Ma sono io Scusa ma Ma vabbè sto zitto Ok Fermo 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 Lo vedi? Sta dando tutto Poverino Mi dispiace Ma qua non c'è proprio tregua per nessuno Qua ci sono Powa e ferro Mi dispiace Oh ma c'è un tipo dietro di me Ma chi l'aveva visto questo? Powa sei da solo Attento Full team Full dannato team Ma che Sto arrivando Devo prendere la macchina Oh mio dio Oh mio dio Niente 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 Oh mio dio Ferro Ferro da me Ferro da me Continua a villare Sto arrivando con la macchina Ok Qui si cazzo ha una super pompa Attento attento Tira le chug splash Quelle potenti Sì le sto tirando Purtroppo ecco Diciamo che non ho materiale infiniti Ci sono Sono con l'auto Molto bene Allora sono sopra di noi C'è una super pompa Stai attento che qui si cazzo sono dei demoni Possono avere il super pompa E essere i demoni Io sono molto più forte di loro Te lo assicuro Allora sai cosa ti dico Oh Scusa baby L'ho fatto che vorrei scadere uno No Ok Ucciso 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 uno Hai ucciso me Hai ucciso Powa Mamma mia Cotto No no Voglio impazzire Voglio impazzire Voglio impazzire Oh C'è cura Cura da me Ti lascio Let's go baby Non ho bisogno neanche qua un colpo Ferro Voglio dire una cosa Mi hai fatto morire a me Hai fatto morire Non loro E li stavo per killare Esatto Ragazzi Io ho appena ucciso il mio compagno Ferro Scusami Ma l'importante è che in questo momento Io sto completando la challenge E noi andiamo a vincere Comunque Powa Se posso provvedire a tutta Non penso sia l'arma migliore Quel pompa che hai in mano Cioè è facilissimo Missar colpi È facilissimo Missar colpi Ma Powa Ha mai missato un colpo In questo video Sì Un paio sì Devo essere sincero Però ragazzi Oggi mi sono davvero troppo forte Troppo troppo Comunque dai Andiamo sull'isola del bottino Andiamo soprattutto a fare magari qualche kill Oh persone davanti a me Eccole lì Ciao piccolino Puoi stare un attimo Attento per favore Ok 31 30 ancora Con due colpi soli 37 73 Aia Mi hanno distrutto Da dove? Non lo so Esattamente Però Ok allora ci dovrebbero essere persone qua Perché Ho appena sparato prima Spamma Spamma Non posso spammare Ti ricordo che Ho proprio zero possibilità Ah Guarda lì Che schifosi Uh Guarda qua eh Che adesso gli tiro uno di quei colpi Clamorosi Uno l'ho distrutto Ok Ma Mannaggia Lui mi ha No vecchio Mi ha portato Tutto via dall'isola Mi ha proprio spazzato via E ne rendo conto Sono solo contro due Allora io cerco di arrivare Però ecco nei limiti Nei limiti predisposti dalla legge Aia Un altro team No ferro Ferro devi resistere Ferro non può morire Bravo Ah hanno ancora preso il rift Ma raga Ma che cacchio Uh Eccoli là Aia Ma che cos'è Tutti i fenomeni sono Non è per caso Fatemelo Fatemelo capire No Guarda poi io ti dico Soltanto ci sono tre team Non due E noi siamo il quarto addirittura Ok aspetta 73 Mannaggia a lui Ho preso pure la struttura Ho preso raga Non so se può essere Identificato come colpo Missato ma sta di fatto Che ci sono Sono ancora qua Sono ancora qua Bravo ferro Bravissimo Occhio scappa da lì L'ho fatto cadere Ucciso Uh Let's go baby Ok C'è un altro da me Mi sto boxando dove Dove un muro non è mio La cosa è veramente fantastica Esatto Sono morto Dietro di me Molto bene signori Full team qua Io ho potuto sparare Tipo due volte Se non sbaglio Aspetta 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 Boom 70 Mannaggia a lui Mannaggia a lui No Ho misato un colpo Uh È morto Mannaggia Attento No 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 Ragazzi doveri quittare Solo perché ho sbagliato un colpo Eh no ho sbagliato un altro Signori Basta Questa challenge È letteralmente troppo difficile Purtroppo siamo riusciti a completarla Però abbiamo fatto un buon punteggio Signori mi raccomando iscrivetevi al canale Codice Powa Ci vediamo al prossimo video Bella Ciao